Signore, a fare data dal mese prossimo voglio accettare le mie dimissioni e provvedere se crede a sostituirmi. Lascio molto lavoro non compiuto sia per ignavia sia per difficoltà obiettive. Devo dire qualcosa a qualcuno ma non so più che cosa e a chi l'ho scordato. Dovevo anche dare qualcosa, una parola saggia, un dono, un bacio. Ho rimandato da un giorno all'altro, mi scusi, provvederò nel poco tempo che resta. Ho trascurato temo clienti di riguardo. Dovevo visitare città lontane, isole, terre deserte, le dovrà depennare dal programma o affidarla le cure del successore. Dovevo piantare alberi e non l'ho fatto. Costruirmi una casa forse non bella ma conforme a un disegno. Principalmente avevo in animo un libro meraviglioso, caro signore, che avrebbe rivelato molti segreti. Alleviato dolori e paure, sciolto dubbi, donato a molta gente il beneficio del pianto e del riso. Ne troverà traccia nel mio cassetto in fondo, tra le pratiche nevase. Non ho avuto tempo per svolgerla. È peccato. Sarebbe stata un'opera fondamentale. Grazie a tutti.